Nella notte tra venerdì e sabato 25 novembre è stato recuperato il corpo di Amilcare Marchetti, 54 anni, precipitato nella diga di Sernio, Lovero, in provincia di Sondrio, mentre svolgeva lavori di manutenzione al bacino artificiale di A2A. L'incidente è avvenuto dopo le 15 di ieri, per causa ancora da chiarire, l'operaio è scivolato nelle acque gelide, nuotando per circa 10 minuti, prima di annegare Stremato. I sub dei vigili del fuoco giunti da Milano hanno recuperato il cadavere durante la notte. I carabinieri di Tirano stanno indagando per comprendere la dinamica dell'accaduto, esaminando i filmati delle telecamere di A2A. Sembrerebbe che il 54enne fosse solo durante l'intervento di manutenzione e le autorità continuano a cercare dettagli per comprendere appieno l'incidente.